ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi vi parlo della fine di un ciclo ovvero quello di montalbano ieri lunedì 8 marzo 2021 è andato in onda l'ultimo episodio ovvero il metodo catalanotti che è considerato l'ultimo episodio della serie una serie che durata 22 anni iniziata nel 1999 e terminata appunto ieri 2021 di fatta da 37 episodi tratti dai romanzi di andrea camilleri quello di ieri non è in realtà l'ultimo romanzo scritto dall'autore purtroppo venuto a mancare nel 2019 ma ci sono altri due romanzi dei quali però non è prevista per ora una trasposizione televisiva quindi questo di ieri l'episodio catalanotti è considerato comunque l'ultimo episodio della serie dicevo appunto conclusione di un ciclo perché ormai montalbano è diventata una serie una fiction italiana considerata quasi di cult famoso il gruppo di attori zingaretti bocci mazzotta che interpretano appunto montalbano augello e fazio e poi vabbè comunque il cast attorno c'è angelo russo che interpreta la gente catarella e sonia bergamasco che è l'amore eterno di montalbano ovvero olivia allora in questo episodio c'è una novità luca zingaretti oltre ad essere protagonista è anche il regista esordio alla regia aveva soltanto girato un documentario molti anni fa quindi questo è effettivamente un esordio alla regia affiancato comunque da alberto sironi quindi comunque non è proprio da solo alla regia dunque dal punto di vista della storia vabbè sappiamo che i romanzi sono alla fine i romanzi come anche gli episodi sono delle storie a sé stanti non c'è mai una continuazione da un episodio all'altro ma sono autoconclusivi c'è un omicidio e quindi bisogna trovare l'assassino e ora veniamo alla trama ovvero questo catalanotti è stato trovato morto con una pugnalata al petto ma subito montalbano così anche come la squadra scientifica di cui ne parliamo dopo si rendono conto che c'è qualcosa che non va perché se non sbaglio dicono che c'è poco sangue vabbè io entro già negli spoiler entra in scena anche la dottoressa barresi che fa l'autopsia e rivela che in effetti catalanotti è morto di infarto subito dopo gli è stata data una coltellata dunque perché dicevo poi parliamo della polizia scientifica perché arriva un nuovo personaggio che stravolge la vita al nostro commissario sappiamo che ecco l'unico se vogliamo dire l'unica continuazione tra i vari episodi è l'eterna storia d'amore tra montalbano e livia che in questo episodio giunge un po al termine anzi senza un po giunge al termine io montalbano si innamora fortemente del fortemente della collega antonia nicoletti appunto interpretata da greta scarano tanto da chiudere il rapporto con livia non c'è un vero lui non le dice espressamente cosa sta succedendo ma livia lo capisce tanto che appunto in una chiamata telefonica si capisce che finisce la loro storia dicevo appunto qui montalbano si innamora non è solo una storia passeggera con tante donne che ha avuto ma qui proprio appunto si innamora con lei si trovano molte volte sulla scena del delitto per studiare il caso ma non solo per studiare il caso e dunque qui nasce la storia nasce e finisce una storia d'amore questo catalanotti era un personaggio particolare ah ecco una piccola parentesi che volevo fare come al solito prima dell'episodio c'è una parte di intervista di vincenzo mollica ad andrea camilleri fatta chiaramente qualche anno fa quando era uscito il romanzo e mi è piaciuto molto perché comunque camilleri ha sempre avuto un grande rapporto col teatro è sempre stata una sua grande passione però nei romanzi di montalbano non ha mai inserito il teatro e lui infatti dice che la moglie stessa gli ha detto ma scusa tu che hai la grande passione per il teatro non hai mai inserito il teatro nei romanzi e dunque qui è stato fatto perché ci tenevo a fare questa parentesi perché catalanotti è un regista di teatro e ha un modo particolare di fare casting degli attori li porta a sfide estreme tra virgolette e poi c'è tutta la compagnia teatrale che appunto viene interrogata ci sono dei colloqui tra montalbano e tutti i membri della compagnia teatrale se vogliamo questo è un po l'episodio meno intrigante per montalbano sì c'è comunque il parallelo del suo morto è il morto di augello nel senso all'inizio del film si vede mini che scappa dall'amante perché sta tornando il marito e trova una salma su un letto scappando non accende la luce lui scappa però comunque si rende conto che c'è un morto sul letto e dunque c'è questo parallelismo che lo turba un po di trovare il secondo cadavere perché poi sparisce e comunque alla fine del film si risolve si trovano tra virgolette tutti i due i cadaveri tra virgolette perché uno dei due non è un cadavere ma è una statua di c'era che catalanotti si era fatto per vedere come reagiva un'attrice alla sua morte perché questa attrice doveva se non sbaglio doveva uccidere qualcuno in scena quindi voleva vedere la reazione vera di questa attrice alla morte di una persona durante l'episodio ci sono appunto varie spiegazioni di come effettua i casting questo catalanotti comunque si arriva un dunque non la voglio fare lunga e perché dicevo il meno intrigante perché in effetti subito dall'autopsia si capisce che non c'è stato appunto un omicidio ma dai punti di vista legali non lo so come funziona lui era già morto e l'attrice che appunto poi viene scoperta lo pugnala al petto credo che comunque ci sia un tentato omicidio quindi qualcosa dovrebbero pur farle però comunque in effetti non è stato un effettivo omicidio lui comunque Montalbano scopre chi è stato la interroga lei confessa e poi le dice appunto tu non hai ucciso nessuno perché lui era già morto di infarto però domani presentati alla casa in caserma dunque non so non viene spiegato come va a finire per lei però io presumo che comunque una certa colpa ci sia non della sua morte ma comunque un tentato omicidio e non penso che la possa fare liscia nonostante gli abbia dato una coltellata nel petto pochi minuti dopo che in effetti era morto dunque questa è stata la trama non mi sono addentrato nei dettagli perché come dicevo in questo episodio non è tanto sì certo c'è sempre l'investigazione però la cosa che colpisce di più è il rapporto e il nuovo rapporto tra Montalbano e la collega Antonia Nicoletti e la fine di un amore eterno con Livia il finale è più o meno aperto non ci dà una spiegazione su come andrà a finire veramente tra loro due però durante il film più o meno lo spiega dice Montalbano le dice che dice la collega che non vuole perderla si farà trasferire perché lei si è provvisoria in su quel caso e verrà trasferita lui dice non voglio perderti ti seguirò mi dimetterò da commissario oppure mi chiederò il trasferimento quindi si capisce che lui lascerà vigata per seguire il suo amore il suo nuovo amore lasciando da parte una storia volevo parlare della regia di Luca Zingaretti che non mi ha dispiaciuta ci sono molte cose interessanti vabbè sì ci sono dei piani sequenza abbastanza belli i dettagli sulla sulla collega Antonia Nicoletti soprattutto quando mangia quando si ritrovano al ristorante ci sono incontrature molto strette sulle labbra sulle mani sugli occhi la musica di sottofondo fa vedere tutto l'amore del di Montalbano per questa donna come si il colpo di fulmine di come si è innamorato di questa donna e un'altra scena che mi è piaciuta molto nel finale quando il Montalbano e Fazio vanno a perlustrare la casa del della presunta assassina c'è una bella scena a camera fissa di c'è un bel set di camera fissa di due stanze illuminate dove i due personaggi si separano però restano sempre in scena e comunque mi è piaciuta molto come è stata impostata questa scena le recitazioni sono ormai un classico di Montalbano gli attori principali recitano molto bene ci sono alcune comparse che sono un po' teatrali ma vabbè qui ci sta anche perché comunque si tratta di una compagnia teatrale quindi non è così non è così brutto da vedere ma tutto sommato comunque anche la regia sulle sulle recitazioni è stata buona dunque questa è stata la fine di Montalbano per ora non non si hanno notizie sui sui ultimi due romanzi di Camilleri se verranno trasposti come serie televisiva è stato detto che comunque questo era l'ultimo episodio della serie quindi presumo che non verrà fatto niente come dicevo sono stati 37 episodi che però sono durati negli anni io personalmente ho sempre apprezzato la figura di Montalbano meno quella del giovane Montalbano non mi è molto piaciuto quindi interpretato da Luca Zingaretti e anche alla regia si è dimostrato non male perché comunque ha una lunga esperienza da attore quindi comunque qualcosa ha preso anche come come direzione dunque il video finisce qui ci tenevo a fare un video su Montalbano perché come ho ripetuto più volte è la fine di un'era come c'è scritto anche nel titolo e anche perché comunque in 22 anni ha fatto la storia è diventato un cult della fiction italiana ed è un personaggio molto amato a livello di personaggi di finzione dunque il video finisce qui noi ci vediamo al prossimo video